ah poi non ho caricato la scena diciamo di lore che ho visto da offline comunque c'era quello nel flashback no? si c'era il tizio che diceva al bambino tu potrai andare dove vorrai su unto diciamo potrai andare dove vorrai anche sulla luna se vorrai diceva al bb allora io adesso ho preparato il personaggio a partire eh dovremmo andare all'altra stazione però non ho ancora la moto è molto l'ordine dovrei essere a posto ho le granate dovrebbero bastarmi per adesso la sola credo che basti disattivo anche la musica sottofondo ah si ho dimenticato no beh per adesso andava bene poi ora che c'è se mergiamo nel gioco bisognava togliere Siamo pesanti, ma ce la possiamo fare. Allora, chi è da rimpiplicata? Uno l'abbiamo. Questi qua ha pure la scala. Andare così. Sono un po' preoccupato per la scala, però. Andiamo fino a qua. Lo vediamo. Restrictions lifted. La possa. Ok. 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 Ok, quindi in pratica ci dice che Dobbiamo Tenere in grossa considerazione La qualità del carico Così da ottenere più punte E questo lo sapevamo già Come cazzo s'ho caduta? Solo di fianco Sono rimasta malissimo Verda Sempre perché le condizioni del carico Sono importanti Ok, si è calmato Ma come si è caduta in quel modo brutto Hanno visto degli ostacoli tali Da parte di fare sta cosa Forse c'è un carico sbilanciato Il carico ce l'ho Ma non è così esagerato Da farmi cadere Ok, là c'è un carico Smarrito Mamma mia che salto C'è un carico C'è un carico Sì Ah, questa è buona Per la A fare le calzature Beh, questo possiamo poi prenderlo un'altra volta C'è un carico No. C'è un bel po' di cose qua in giro. Da quale distanza? There we go. Ah, là c'era un box. C'è un po' di cose qua. C'è un po' di cose qua. C'è un po' di cose qua dentro. C'è un po' di cose qua. 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 Questa crono pioggia mi sta rovinando tutto il carico. C'è un po' di cose qua. 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 Non vedo niente. No! Perché mi va contro la creatura? di cose qua. di cose qua. Ok. L'abbiamo fatta? Forse no. Che ci dici? Creiamo il cartello? Facciamo. Fermiamo un po'. Fermiamo un po'. Il patho che ci dici? Un po' di cose qua. P RIGHT. Il punto di… Il punto di… Officer verde, Era la prima volta che incontravo quel tipo di creatura La c'è una vista brutta Cosa? Ecco Cosa? Cosa? Cazzarola tutto dis... Peccato... Ah, questo lo voglio provare se... Ma sì, facciamoglielo prendere un altro... Ok... Sono arrivata un po' a pezzi, però va bene... No... 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 costruire generatori quindi adesso posso caricare la moto è profista Bridgley Non è vero se si è arrivato a Edgenott City. È lei che ci ha portato a prendere la città del vento. Io ero con il gruppo, portando l'arraggio mentre Amelie portò. Non ho mai incontrato in personale, ma è un honore per andare con lei all'interno. Quando hai visto, senti a dire che ho detto che ho detto, eh? Sam, hai un momento? Ho fatto un experimento con il tuo sangue. L'altro che hai fatto qualcosa. Dopo aver disperato un'erosolizzata di tuo sangue in B.T. Territory, Sam, questa è la perfetta opportunità. Siamo arrivati alla regione del Chiral network, tutto ciò che resta è Portnott City. Voi tornare a Capitallnott City, così puoi prendere i lavori di portnott. Per la volta che arrivi, possiamo dare il prototipo in personale. Una cosa altra cosa, non è molto molto più che porters vengono a quella fattura. Quando sei qui, dovete prendere i alcuni 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 alcuni. Non c'è nulla di arrivare all'interno qui, se c'è qualcosa di fatto. Io mi sento sola, abbandonata e usata. Nel gioco dici? Sì. Ok. Ma sei utile, stai mettendo la fibra pure al porto, che al porto non ci arrivava nessuno. Noi stanno anche testando questa nuova arma. Eh. Tra poco te la faranno usare. È stata fatta con il mio sangue e i miei fluidi corporei vari. Ecco perché quando usi quel bagno ti dicono, eh questo bagno è molto comodo, ti consigliamo di usarlo. Quindi si fregano tu. Allora io non so se c'eri, se l'hai vista la cosa. Ma quelle granate che io ho lanciato contro quella creatura le ho prodotte facendo cacca pipì e lavandomi. Eh questo dicevo. Le ho prodotte io. Va bene. Ah, sta cosa di riciclare te la spiego adesso, ma io in realtà l'ho già fatta. E la mia curiosità mi porta avanti nel gioco. Quindi avevo un'attrezzatura rotta e l'ho riciclata. Allora. Vabbè, i dati poi li leggerò. Quindi adesso devo tornare indietro. Madonna. Non voglio ripassare da questa parte, è orribile. Allora. 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 uno ce l'ho ancora mi pare di questi progetti qua. mezzo distrutto. Allora. 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 Sam. Double check the order summary. mezzo distrutto. Allora. 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 하ms. Allora. Allora. inese. What? Allora. 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 tierra. Prendiamo anche gli altri? okay. tanto questi posso farli quando voglio immagino o anche no prendiamo solo questo o Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, le devo sistemare meglio sulla schiena. Fanno schifo così. Ah, con F lo dispone automaticamente. Proviamo. Ok. Oh, bene. Però qua mi ha spostato delle cose, cioè mi ha messo questi qua. Granate sulla schiena. Just remember, one foot in front of the other. All there is to it. No. 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 Weapons restriccions. Oppure il BB malandato. Non so se mi avvisa che se ci sono le... O c'è qualche attività insolita. No. 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 vai un po troppo veloce. ci c'è 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 c ecco perché non le abbiamo ritrovate lì dove oh wait sony sono andrea per il live hai chicato malamente ecco 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Guarda questo lavoro come c'è ridotto Comunque è bellissimo l'effetto di... Quando tacchiappano Si lasciano i segni sulla tuta E' un po' Comunque sai che stavo pensando Simo, l'atmosfera un po' ricorda quel film con Matt Damon, quello su Marte, un senso di solidarietà, precario. Aspetta, come si chiamava? The Martian, bravo. Stava venendo Mission to Mars, poi ho ricordato che era con il Gary Sinise e un altro film, insomma, tutta una spazia, è stata diversa. Aspetta, un attimo parlava la tiziana. Non fa niente, non è importante. Perdonami, non ho il volume. Eh vabbè, non lo so, li giochi tutti così, quindi mi sono abituato. Tutti col volume 9000, over 9000. Da 5 minuti, io ci ho messo 9 minuti. C'è niente a ridere. 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 C'è niente a ridere che un uomo può portare in un po' così grande. C'è niente? È un legenda. C'è niente a ridere. C'è niente a ridere. è qua dalle parti insomma aspetta che ha muto l'audio del gioco dice che è qua vicino insomma ci saluta non può venire proprio a trovarci però ce lo ricorderemo non è proprio vicinissimo però è non è neanche troppo lontano e diceva che poi dopo una settimana torna insomma fa bene sa che quelle missioni le dovevo prendere le secondarie ah mi sto mettendo quella statistica perché questa consegnerà tempo perché è sicuramente sembra che quando qualcuno è in problemi tu sei lontano lontano è sufficiente per me pensi che tu dovresti farlo all the way to the coast buona lontano bene abbiamo di roba abbiamo 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 ho abbiamo 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 Grazie a tutti. Aspetta, come si faceva a selezionare? Ah, ok, ecco il tuo. Aspetta, come si faceva a selezionare? Aspetta, come selezionare? Aspetta, come selezionare? Abbiamo il nostro primo generatore. Abbiamo il nostro primo generatore. Aspetta, come selezionare? Non c'è nessuno qui, ma io sto per l'interno. Ok. Sto scendo metalli, vabbè potrei prenderli qua. Non c'è nessuno. Un po' tipo cado appena mi metto sulla schiena. Guarda come sono messi bene, guarda. Guarda come sono messi bene, guarda. Buongiorno. Ciao. Come ho. Come ho. Come ho. Grazie a tutti. 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 Scusa, mi ha tolto l'ologramma che ho scelto? Ah, forse posso selezionare una cosa alla volta? Mi sa che puoi selezionarne solo una? Ah, forse più la potenzia più ti fa selezionare cose, capito? Ok, ci dobbiamo andare nella stanza. Mi sa che questi generatori ne dovremmo costruire un per fuoco. Non straccio, poverino. Allora, io direi che sulla stanza ci fermiamo. Così io lo sistemo, io do una sistemata e salvo. Così poi cominciamo con... ci sarà sicuramente un flashback dopo... Quindi io lo sistemo, salvo e poi andiamo avanti. Ok. Ciao Giovanni. Allora, quindi direi che chiudiamo qua... Bella Giovanni. ...con Death Stranding e ritorniamo più tardi con qualcos'altro. Mentre Death Stranding lo continuiamo domani, domani pomeriggio. Speriamo di farlo pure un po' prima, diciamo. Riusciamo a fare. Quindi ci ritroviamo per le 23, più o meno. 23.30. Grazie a tutti per la connessione. Bella a tutti ragazzi. Buona cena, ci rivediamo dopo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.